Abbiamo rilevato delle competenze territoriali molto importanti nel settore dell'information tecnologica e comunque sono competenze che noi abbiamo cercato sul territorio nazionale e non abbiamo potuto trovarle come ci aspettavamo. Di conseguenza la scelta è stata puntata sull'aspetto estremamente delle validità delle persone che il territorio offre e quindi questa cosa per noi è stata fondamentale nella scelta di questo territorio. Ha un portafoglio di offerta di queste competenze che non ci sono sul territorio nazionale frutto anche del fatto che ci sono delle università molto competenti che sfornano neolaureati, ingegneri che possono essere poi utilizzati sul mercato del lavoro per queste sfide nuove dell'economia, della digital economy che comunque siamo tutti portati ad affrontare come azienda, come azienda leader del settore dove noi ci poniamo come obiettivo di essere. Grazie a tutti!